Grazie per essere qui, oggi è stato un grande W per Cremona, è stato molto necessario. Sì, è molto necessario. Abbiamo fatto molti tanti perdoni all'inizio della season, quindi credo che per la nostra confidenza e per la nostra chimica, è sicuramente molto necessario. Lui dice che sì, questa è stata una vittoria molto agognata che soprattutto fa molto bene all'atmosfera della squadra e anche alla chimica. Sì, oggi è stato quasi perfetto. Oggi è stato perfetto sull'attività in la piccola. Come hai trovato le scuole per risolvere il problema? Beh, solo lavorare sull'attività in pratica, lavorare sull'attività in pratica, lavorare sull'attività, concentrare sull'attività. Il corso è stato un'attività di mantenere me concentrati, mantenere la mia mente in sicure che mi stopta la balle in piccola, e mi concentrava sull'attività di riuscire. Ci sono diverse cose per migliorare la piccola. Credo che sia stato un'attività di squadra. Credo che tutti erano in giro, in giro, in giro. E funziona per l'attività, credo. Credo che stavamo solo insieme in tutto ciò che abbiamo fatto. Alla prossima è molto importante per il prossimo anno. Cosa pensi? Molto aspettazione? Perché il prossimo anno è molto importante per il prossimo anno? Cosa pensi? Cosa pensi? E se continui a lavorare sull'attività e l'attività, sarà bene. Sì, sicuramente. Grazie. 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 Grazie.